3.450 galline ovaiole di un'azienda di Gualdotadino sono state abbattute. Un campione di feci, prelevato in una delle previste attività di autocontrollo da un ambulatorio di analisi specializzato, è risultato positivo alla Salmonella. I fatti risalgono al 16 agosto, quando la direzione del Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'Asla 1 ha informato il sindaco di Gualdotadino della presenza del batterio Salmonella in uno dei capannoni dell'allevamento di ovaiole presente nel Gualdese. Nello stesso giorno il sindaco ha posto sotto sequestro cautelativo lo stabile indicato e gli animali ivi ricoverati dando anche precise disposizioni sull'entrata ed uscita da tale stabile sia di persone che di altri animali sequestrate anche le uova inviate ad una ditta specializzata per il loro trattamento termico. I 3.450 capi invece sono stati prelevati lo scorso 19 agosto da un'azienda di Rovigo individuata dalla titolare stessa dell'allevamento che ha provveduto ad abbatterli. Il tutto per evitare il diffondersi del batterio infettivo con ripercussioni sulla salute se contratto dall'uomo. Per l'azienda vicola che ha subito collaborato con le autorità sia nell'isolamento del capannone che nello smaltimento dei capi ipotizzati infetti un duro colpo con conseguente stop di parte della sua produzione previste tuttavia indennità in base al tipo di animale e al numero abbattuto.